Buongiorno a tutti ragazzi, oggi voglio preparare con voi un plum cake filled. Vediamo subito come prepararlo. Per iniziare avremo bisogno di 200 grammi di albume liquido, poi utilizzeremo 200 grammi di farina d'avena, 150 ml di latte di mandorla, 20 grammi di cacao amaro, un pizzico di sale rosa e mezza bustina di lievito. Per prima cosa monteremo l'albume, dopodiché prendiamo la nostra farina d'avena, io utilizzo questa della One Protein al gusto brownie, e ne prendiamo 200 grammi. uniamo il cacao amaro, poi aggiungiamo la nostra mezza pastina di lievito, il latte di mandorla, un pizzico di sale, e per ultimo aggiungiamo il nostro albume montato. mescoliamo il tutto. e versiamo il composto in uno stampo per un cake. e ora è il momento di infornare. il nostro pancake è terminato, ora possiamo guarnirlo con un velo di crema di arachino, gusto e cioccolato in taglie, e un velo di cocco.